Vi faccio vedere quanto è facile fare questo frullato energizzante per la colazione o la merenda. Vi farà impazzire e bastano tre ingredienti. Latte vegetale congelato a cubetti, caffè, altro latte vegetale e sciroppo d'acero. Pronto in due minuti, è rigenerante ed è assolutamente perfetto per noi mamme per iniziare la giornata belle cariche.